E' ecco voi, di sempre ai tanti, di qui, il nostro, il nostro mascozio, di gioco, andiamo a inseguire gli altri, ed ecco voi, l'ex fisico, 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 l Ed ecco a voi Gregario Toro, il mitico Germano e il migliatore dentro che va a andare. Ed ecco, un po' la Pietra. Grazie! Ehi, ve lo finta! Guardi se si dice! Vita, il Nusa! Graia Junior! No! Il Nusa! Luca Graia! Luca Graia! No, ci vuole! Luca Graia! Ed ecco il cuore! Buonetto! Lei è il regista della... Non faccia commenti! Non c'entra niente! Dai, buonetto! Un piccolo commento! Eh, l'andatura è a costanza tranquilla! Stiamo aspettando uno scatto di Rocchi, allora siamo una ruota di Rocchi! Vediamoci, signori qui! Prendi il Cilindro! L'ambine con il dita! Ehi! Nome con il nome? Viale Giuggette, Jose! Allì! 46! Quanto? Ecco uno degli organizzatori di questa pedalata! faremo l'occhia chi la freddo ne mutando il punito al Montferron vincitore del Montmartre è da discutere questo è da discutere ti muovi eh è tua negra allora Giovanni non mi ripeto dai un piccolo commento su che? ci sono la giornata di oggi come si presenta la gara non dobbiamo ancora scaldare qui qui andiamo a spazio aspettiamo solo il finale io e Giovanni Ferrero aspettiamo il finale Giovanni Ferrero io sono già caldo così che ha tentato ad andare in fuga ma è rimasto penalizzato perché ha già sbagliato la strada e l'ho fatto no ma sei solo sbagliato la strada bravo no 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 io ho seguito torna là in fuga chi è là va Luciapeva Remo ha tolto via la mantellina tu dove è? tu dove è? devo darmi fuga più io non vado più stai tranquillo il finale oggi è una tappa di trasferimento è una tappa di not dettaglio Grazie a tutti.